Seconda vittoria consecutiva per l'Adflex che piega in casa 86 a 83 la VL e sale a 8 punti in classifica. Si allunga a 4 incontri la strescia negativa esterna di Pesaro che rimane a quota 6 in graduatoria. Partono forte Dallas Moore e Cuxix e i marchigiani si portano sul più 6 dopo 8 minuti. Bond e Ivanov guidano la reazione dei Toscani che impattano al dodicesimo. Gli ospiti viaggiano con il 65% dal campo e con Bertone, Ceron e il solito Dallas Moore piazzano un break di 14 a 4 che vale il più 10, 45 a 51 all'intervallo. Nella ripresa Bertone e Cuxix permettono alla VL di ritoccare il più 9, 63 a 72 al trentesimo. Gaspardo, Ivanov e McGee non ci stanno e l'Adflex si riaffaccia a meno 2. Cresce la difesa di Esposito. Pesaro scrive a referto un punto in 5 minuti e va sotto nel punteggio. Ronald Moore e Ivanov completano il 19 a 4 per i padroni di casa che salgono sul più 6 al trentasettesimo. Omogbo e Micah non gettano la spugna e i viaggianti rientrano a meno 1. Decisivo Bond. 23 su 36 da 2, 10 su 16 ai liberi e più 8 al rimbalzo per Pistoia. Contro il 18 su 34 e 14 su 23 degli avversari. 23, 7 assist per Ronald Moore, 14 per McGee, 11 più 9 falli subiti per Ivanov. Dall'altro lato 21 per Dallas Moore, 13, 8 falli subiti per Micah.